Come Autoline Varesine siamo contenti di accogliere questa iniziativa fortemente voluta dal Comune e dall'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale. Un nuovo servizio che va incontro non solo a chi vuole prendere la bici e portarla al Lago di Varese, alla Schiranna, a Groppello, a Cazzago, a Bodio, ma che va anche nell'ottica di un potenziamento del trasporto pubblico locale. Abbiamo più o meno una ventina di corse in più, che al sabato e alla domenica ci saranno da Varese alla Schiranna e che proseguiranno poi su tutto l'anello del Lago, andando a toccare paesi che magari la domenica non hanno proprio il servizio, come Bodio, come Cazzago, o ce l'hanno estremamente limitato come Gavirate. Quindi spazio alle bici, ma spazio anche agli utenti che semplicemente la domenica vogliono andare a fare una passeggiata al Lago o al contrario non bisogna venire a Varese. Per quanto riguarda i titoli di viaggio, sono i normali titoli di viaggio di Autoline Varesine più un supplemento biciclette giornaliero di 3,50 euro.